5, 4, 3, 2, 1, vai, 100, Albiri destra 4, Albiri destra 4, 50, destra 5, per destra 3, per destra 3, 50, al rail destra 3, destra 3, in sinistra 4, lunga, che al ponte diventa 2, al ponte diventa 2, 50, 50, destra 4, e sinistra 4, sinistra 4, al palo destra 3, lunga, gira, destra 3, lunga, gira, 100, occhio, 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 sei bene Tommy? Sì, 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 no, 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 aspetta, 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 non posso far più niente Ale, sta tranquillo, Oh che cazzo?